Torniamo sulla strage in provincia di Palermo, la strage sul lavoro dove sono morti 5 operai e 1 è in condizioni gravissime perché è soltanto l'ultima in ordine di tempo, dopo 5 operai morti a Firenze e poi quelli della manutenzione della centrale idroelettrica di Suviana erano 7 allora cerchiamo di fare il punto con Lorenzo Borga di quella che è la situazione sul fronte delle misure di sicurezza nei nostri cantieri e nelle aziende Sì ovviamente ci vengono in mente i casi appunto delle stragi degli ultimi mesi ma in realtà le morti sul lavoro sono incidenti mortali silenziosi quasi 3 lavoratori al giorno perdono la vita, nel 2023 si è arrivati a 1041 infortuni mortali, il numero che probabilmente Inel rivedrà al rialzo vediamo la serie storica perché oggi noi appunto siamo qui, vediamo che negli ultimi 30 anni sostanzialmente gli infortuni mortali sono stabili quella linea rossa non scende purtroppo, va detto che rispetto invece alla metà del secolo scorso le cose sono migliorate all'epoca morivano più di 10 persone al giorno, pensate allora andiamo a vedere anche cosa è accaduto nei primi tre mesi del 2024 perché anche qua purtroppo vediamo una stabilità che invece vorremmo che questi numeri scendessero 191 denunce di morti sul lavoro nel primo trimestre, dati anche questi preliminari che saranno purtroppo rivisti a rialzo dal INAIL e quindi insomma una tendenza che migliora ma non tanto quanto tutti noi speriamo andiamo a vedere alcune caratteristiche, quali sono i lavoratori più a rischio le costruzioni sono un settore in cui ci sono più frequenti casi di morte seguiti dal trasporto e magazzinaggio andiamo a vedere anche una fotografia dell'età delle vittime appunto sul lavoro perché il 59% sono lavoratori over 50, questo ci racconta evidentemente che sono lavoratori secondo gli studiosi che purtroppo hanno una minore reattività alle situazioni dei pericoli e anche magari un'eccessiva fiducia vista l'esperienza che però purtroppo non sempre riesce a evitare le tragedie il 22% delle denunce di morte sul lavoro nel primo trimestre sono stranieri ben più della percentuale di lavoratori stranieri nel nostro paese quindi evidentemente fanno i lavori più rischiosi vediamo anche una cartina dell'Italia che ci racconta come al sud ci sia un'incidenza maggiore delle morti anche questo ci racconta una parte della storia se guardiamo invece ciò che accade in Europa noi siamo circa a metà di questa triste classifica dove muoiono più lavoratori la Francia ha il triste primato, lo sciagurato primato appunto del paese più rischioso perché tutto questo? Perché si fanno poche ispezioni siamo ancora sotto i livelli pre-covid 111 mila nel 2023 rispetto alle 160 mila del 2019 ci sono pochi ispettori rispetto all'organico previsto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrebbero essere 7.700 sono solo 5.000 nonostante le 850 assunzioni del 2023 manca sostanzialmente un ispettore su 5 e questo ovviamente non aiuta a garantire la sicurezza dei lavoratori